Più di 1500 allevamenti, dei quali quasi l'80% costituiti da bovini sia da latte che da carne. Circa 600 gli allevamenti di pecore e capre, mentre sono più di 300 le aziende che allevano maiali. Numeri importanti per un settore che in Molise è il vero traino della filiera agroalimentare, con tantissime piccole stalle dove il prodotto viene trasformato in proprio, oppure ceduto ai caseifici che lavorano in gran parte al latte locale, la cui produzione annua viene stimata in 50.000 tonnellate. Oltre al latte c'è anche il settore delle carni e degli insaccati, che fa della zootecnia un architrave dell'economia regionale. Particolarmente penalizzato dal Covid e ora anche dalla guerra in Ucraina, il settore zootecnico riceverà a breve una robusta iniezione di denaro. Lo ha annunciato l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che a partire da maggio sbloccherà gli aiuti stanziati per il comparto zootecnico. Si tratta di un importante risultato ottenuto grazie alla mobilitazione della Coldiretti, che ha promosso manifestazioni in tutta Italia, come quella di Isernia il 24 febbraio, e a Campobasso l'11 marzo, per sensibilizzare il governo sul grave stato di crisi del settore, in particolare per il latte, pagato agli allevatori un prezzo inferiore al costo calcolato dallo stesso Ministero in 46 centesimi. Il piano, hanno spiegato dalla GEA, consentirà di autorizzare nella prima metà di maggio finanziamenti a oltre 50 mila beneficiari per oltre 40 milioni di euro. Entro il mese di aprile proseguirà, ha fatto sapere l'Agenzia, il pagamento di altri 47 milioni. Questo consentirà di ristorare il settore per un totale di 87 milioni di euro. Ma questo, ha affermato il direttore regionale della Coldiretti, Aniello Ascolese, non basterà consentire una ripresa delle aziende. Il nodo cruciale era e rimane la presenza incontrollata dei cinghiali sul territorio che, ha concluso Ascolese, condizionano ogni possibilità di coltivare i terreni ora coltivati a perdere.